Molti utilizzatori di steroidi ora usano delle pomate, più difficili da rilevare. Ora è più facile nascondersi e gli utilizzatori di steroidi aumentano. Oggi la categoria di utilizzatori, che cresce più rapidamente, non è formata né da studenti né da atleti professionisti. Secondo lo stereotipo, chi usa steroidi è un mostro gigantesco con una siringa infilata in fronte che mangia i bambini per colazione. La gente pensa che siamo tutti... è questa la percezione che ha. In realtà ci sono milioni di persone normalissime che usano steroidi e che non sospetteremo mai, perché è gente assolutamente ordinaria e comune. Si calcola che più del 50% degli utilizzatori di steroidi non siano atleti, ma persone normali che usano queste droghe soltanto per apparire più belle. Accidenti! La generazione attuale ha subito un lavaggio del cervello dal mondo della moda, secondo cui devono essere tutti perfetti. Apparteniamo a una generazione che conosce solo la gratificazione immediata. Il lavaggio del cervello mira ai giovanissimi e sta peggiorando. Se guardate le action figure della fine degli anni 70, sembrano uomini normalissimi, ma se guardate gli stessi giocattoli, gli stessi pupazzi usciti a metà degli anni 90, sembra che abbiano assunto steroidi. Nel 64 una popolare action figure aveva dei bicipiti di dimensioni equivalenti a 32 centimetri. Nel 91 sono di 42 centimetri. A metà degli anni 90, 68 centimetri. Per definizione, caratteristici dell'uso di steroidi. Il dottor Harrison Pope è uno dei maggiori esperti dell'ossessione maschile con il fisico. Ha seguito utilizzatori di steroidi per oltre vent'anni. Ero colpito perché molti di questi uomini soffrivano di quella che definisco anoressia nervosa inversa. Si guardavano allo specchio e si vedevano piccoli e mingerlini, anche se erano robusti e buscolosi. Secondo Pope, l'anoressia nervosa inversa affligge il 2% degli uomini in generale, ma quasi il 10% dei culturisti. Gli anabolizzanti nutrono l'ego, lo rendono potente, lo fanno sembrare fondamentale. Si vive attraverso l'ego e ci si aspetta l'ammirazione della gente. Ovunque si vada, ci si aspetta di essere guardati. Entrando in un ristorante, ci si aspetta che la gente esclami wow, in spiaggia ci si aspetta di essere ammirati. Diventa un'abitudine. Oggi, l'elite del culturismo preferisce la dimensione alla simmetria, la massa alla bellezza, un'immagine distorta dagli steroidi. È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding in base dagli steroidi. Da mister universo al ragazzo della porta accanto, qualunque atleta può essere tentato dagli steroidi. Anche il migliore. Di tutte le competizioni contaminate dagli steroidi, il Tour de France non è né la più antica né la più prestigiosa. Alle Olimpiadi estive del 2000 a Sydney, la stella dell'atletica leggera, Marion Jones, conquista cinque medaglie. I giornalisti sportivi la incoronano la più grande atleta donna al mondo. Ma nel 2007, ammette l'uso di steroidi durante gli allenamenti per i giochi estivi. I suoi record mondiali sono invalidati e le medaglie ritirate. A 31 anni, una delle più grandi atlete al mondo annuncia il suo ritiro dallo sport. Come allenatore voglio che i miei atleti usino steroidi. Naturalmente no. Ma voi, come spettatori, chiedete il massimo agli atleti. E gli atleti faranno tutto ciò che possono per darvelo. Quando lo faranno, cominceranno a superare il limite. Ma questo limite, purtroppo, è rappresentato dagli anabolizzanti. Per alcuni atleti, la ricompensa della vittoria supera la paura di essere scoperti. Solo un anno dopo che Floyd Landis viene privato del suo trionfo al Tour de France, gli steroidi sono tornati. Nel 2007, un campione del ciclismo viene espulso perché è positivo agli steroidi. Se gli atleti continuano a usare gli steroidi in una delle gare più controllate, in quali non li useranno? Stranamente, proprio nello sport in cui sono forse più abusati. In un oceano di steroidi, un piccolo numero di atleti nuota contro corrette. A Portland, nel Maine, inizia una gara con atleti insoliti. Culturisti naturali, ribelli in uno sport contaminato dagli steroidi. Questi atleti respingono gli steroidi, sia nei vantaggi che nei rischi. E nessuno conosce meglio i rischi del loro allenatore. L'ex Mr. Universo ed ex utilizzatore di steroidi, Steve Michalik. Ragazzi, si riduce a tutto questo. Tutto il duro lavoro che facciamo in palestra si riduce a pochi minuti sul palco. Quindi cercate di divertirvi. Da Watertown, Massachusetts, accogliamo il concorrente numero 8, Michael Minovian. Qui lo sfidante più minaccioso è invisibile. La tentazione. La vittoria è inebriante, gli steroidi sono allettanti. Anche per un uomo a cui sono quasi costati la vita. Avrò anche avuto un ictus e un attacco cardiaco, problemi di fegato, disturbi mentali, stati d'angoscia. Se lo rifarei... Sì, l'attrazione è questa per un momento. Steve Michalik è stato il migliore sul pianeta. Il numero uno. È difficile da ignorare. Forza, dammi il massimo! Nella sua palestra di Long Island, Michalik allena una nuova generazione di culturisti per fare ciò che dice, non ciò che ha fatto. Questi ragazzi e uomini hanno bisogno di una guida, qualcuno che ci sia già passato. Hanno bisogno di qualcuno che li accompagni dove vogliono arrivare senza ammalarsi. sopporta il dolore, risparmia la vergogna, andiamo! Cerco di insegnare loro ad allenarsi e a conquistare la muscolatura che la loro struttura genetica consente e spiego loro che quello è il massimo che otterranno. È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding in base dagli steroidi, ma si può vincere in modo pulito a quasi tutti i livelli. Da golfista al culturista. Ma non si può andare oltre, è così. È una dura realtà per gli atleti. Per molti gli steroidi sono inestimabili. Rappresentano la differenza tra uno stipendio e una fortuna. Tra la mediocrità e il successo. Uno dei nostri pazienti lo ha riassunto in una sola frase. Perché dovrei essere Clark Kent quando posso essere Superman? Se esistesse una droga che permettesse a un giornalista di vincere il Pulitzer o a me di aggiudicarmi il premio Nobel, se la inietterebbero sui gradini del palazzo principale qui all'Università della Pensilvania. Per altri esperti la colpa risiede altrove. Le persone da biasimare siamo noi, gli spettatori dello sport. Vogliamo vedere i numeri, le prestazioni. Vogliamo vedere più home run. Vogliamo i cento metri da primato mondiale. Il fatto è che siete voi a volere che i nostri atleti usino gli steroidi. Mentre il dibattito con l'arteria, Santora analizza 14 culturisti tra i 35 e i 55 anni che hanno usato steroidi per una media di 12 anni. Un numero significativo di individui presentava una grande quantità di placche già intorno ai 30 anni. Placche che di solito si riscontrano nei 70 anni o 80 anni. Sembravano in forma, robusti, ben sviluppati. In fondo sono culturisti professionisti, ma le arterie erano pericolosamente calcificate, indurite. Si trattava dell'indurimento prematuro delle arterie che si spiega solo con l'assunzione degli steroidi. In tutte e tre le arterie maggiori hai arteriosclerosi o placche. Per arrivare a questo livello un atleta professionista deve farne uso per parecchi anni. È allora che si cominciano a vedere gli effetti. Questi uomini li hanno usati per 10, 12 anni, 15 anni e moriranno all'improvviso. Vedremo persone che invece di morire a 70, 80 anni moriranno a 40, 50, forse anche 35 anni. Sono stato fortunato ad arrivare vivo fino ad oggi, ma non credo che lo rifarei. Sapendo quello che so oggi, non lo rifarei. Ma Santora non può dimostrare che i suoi timori sono fondati. Il suo gruppo di studio è troppo ristretto per tirare ampie conclusioni. Il problema delle droghe illecite in generale e degli steroidi in particolare è che non possono essere oggetto di uno studio in laboratorio. Non si possono somministrare a qualcuno degli steroidi per 20 anni per studiarne gli effetti. Il Comitato per la ricerca sperimentale sugli esseri umani non lo permetterebbe. Quindi, per motivi etici, l'unico modo per studiare questi fenomeni è osservare e scoprire ciò che accade in natura. Ma in questo tipo di ricerca una serie di limiti metodologici impedisce di ottenere risultati convincenti e validi senza il rischio di distorsioni. Mentre i medici cercano delle risposte, alcuni utilizzatori di steroidi ignorano i segnali di pericolo. Alcuni medici incolpano la loro stessa professione. È dovuto passare moltissimo tempo prima che la comunità medica ammettesse che gli steroidi effettivamente funzionano. Ancora oggi, ad esempio, viene dichiarato nel Physician Desk Reference che gli steroidi non hanno l'effetto di migliorare le prestazioni atletiche. Avendo fallito da questo punto di vista, i medici non è stato dato credito quando hanno esposto i potenziali pericoli degli steroidi perché avevano perso credibilità. Con la perdita di credibilità dei medici è aumentato l'uso. Oggi gli steroidi si trovano ovunque e in ogni sport. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport. Ora si sono diffusi anche nella Major League del Baseball e in altri sport professionistici. Nel 2005, alcuni dei più importanti giocatori di baseball parlano al congresso americano dell'uso degli steroidi negli sport professionistici. Nel suo libro e durante la sua testimonianza Canseco parla dell'uso dilagante degli steroidi nel baseball. Da allora sono caduti altri eroi. Nel 2007 il baseball americano subisce un duro colpo. Sono coinvolti, in un'ampia indagine, più di 80 giocatori di tutte le squadre americane, inclusi due dei migliori, Barry Bonds e Roger Clemens. Entrambi respingono le accuse. Il minimo vantaggio sui rivali procura a un atleta milioni di dollari e record mondiali. Attualmente gli steroidi stanno invadendo campi in cui la posta è bassa, ma i rischi restano anche. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport, ma secondo me non dovrebbero essere usati nel baseball, nel calcio, in quegli sport che i ragazzi cominciano a praticare e nel cortile di casa. Prendere steroidi è la cosa più dannosa che un adolescente possa fare. Ma lo fanno, e Taylor Houghton è uno di loro. Uno, due, tre, vai! Taylor era un ragazzo meraviglioso. Aveva sempre il sorriso, la battuta pronta. Era molto amato a scuola ed era considerato bello. Le ragazze lo cercavano continuamente, a scuola aveva degli ottimi voti, la media del nove. Aveva ottenuto un punteggio fantastico ai test per la missione alle università che stavamo per andare a visitare. Taylor Houghton è un normale atleta sedicenne delle scuole superiori, fino al febbraio 2003. E' allora che decide di fare il provino per la squadra di baseball dell'università. In meno di tre mesi, prende 14 chili, inizia a soffrire di acne, gli si gonfia il viso e gli viene l'alito cattivo. Tutti effetti collaterali degli steroidi. Secondo il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, tra i 700 e gli 850.000 adolescenti hanno usato steroidi. Uno su 20. Basta leggere il libro di Jose Canseco. Il messaggio che trasmette è che, almeno secondo lui, gli steroidi erano una panacea per raggiungere il successo. Guadagnare milioni di dollari, apparire in tv ogni sera, stabilire primati, avere tante donne intorno, tutto questo non può nuocere. Gli atleti professionisti che hanno scelto di usare steroidi hanno conosciuto pochi dei lati negativi. Secondo gli esperti, pochi adolescenti capiscono i pericoli che il crescente mercato degli steroidi nasconde. Oggi gli steroidi possono essere acquistati facilmente online da laboratori in Messico, Thailandia e India. Abbiamo sentito storie di fiale riempite di olio di semi di lino e addirittura di fiale che contengono olio per motori e i nostri ragazzi se le iniettano nelle vene. Poco dopo che Taylor inizia ad assumere steroidi, la sua personalità cambia. Ciò che abbiamo notato in Taylor era decisamente più grave dei normali sbalzi di umore. In due occasioni ha attraversato una parete di cartongesso con la mano che usava per lanciare. Avevamo davanti a noi tutti i segnali di pericolo, tutti gli indizi che ci servivano. Ma non li abbiamo associati agli steroidi perché né noi né il nostro medico di famiglia sapevamo che cosa cercare. Quando smette di fare uso di steroidi, Taylor scivola in una depressione profonda. La mattina del 15 luglio 2003 entra in camera sua, si infila una cintura intorno al collo e si impicca. Cosa del genere non dovrebbero accadere alla gente comune e istruita, ma il fatto è che continua a succedere ancora oggi. A Taylor gli steroidi impongono un prezzo sproporzionato rispetto all'obiettivo. Non aspira a un contratto nella Major League o a un salario a sette cifre. Vuole ciò che desidera ogni adolescente, appartenere. Dopo la morte di Taylor, molti dei suoi compagni di squadra hanno ammesso con me e con mia moglie di avere usato steroidi e per un periodo molti di loro sono stati terrorizzati. Ma nel tempo si è verificato qualcosa di veramente spaventoso. Alcuni di quei ragazzi hanno ripreso a usare anabolizzanti poche settimane dopo il funerale di Taylor. La tentazione degli steroidi supera la paura dei rischi. Ma cosa può indurre un adolescente sano a togliersi la vita? La risposta si trova nel profondo del cervello. Quando si assumono steroidi, l'ipotalamo nel cervello li vede arrivare dall'esterno e invia un messaggio ai testicoli per comunicare che è già presente un'enorme quantità di steroidi e chiedere di non produrne altri. sono sufficienti. Sopraffatti, i testicoli riducono la funzionalità. Una condizione chiamata ipogonadismo. Taylor ha smesso di colpo di usare gli steroidi. L'astinenza gli ha lasciato poco testosterone e tanti rischi. Si cade in una profonda depressione e si hanno addirittura estinti suicidi nel periodo in cui il livello di testosterone è così basso prima che i testicoli riprendano a funzionare. Durante uno studio su adulti dipendenti dagli steroidi, il 4% tenta il suicidio quando è in astinenza. La palla del suo home run del 16 giugno 2001 è importante perché è stato il suo primo e ultimo home run allo stesso tempo. Io l'ho cercata fra le erbacce dopo che l'ha colpita come farebbe ogni padre dopo che il figlio ha battuto il suo primo home run. Don Houghton ora dirige una fondazione a nome di Taylor per proteggere altri adolescenti dagli steroidi. Nel 2007 il Texas approva la legge Taylor il più grande programma di screening della nazione per atleti delle scuole superiori. Ma